vedo in giro troppi intertristi di nuovo vedo in giro troppi psicodrammi eh vedo in giro anche un po' troppo snobismo della squadra dell'Inter e come si combatte questa cosa beh un primo modo può essere quello di fare una live e di parlarne insieme quindi mi raccomando alle 19 live sul canale Gianluca Rossi TV parliamone insieme parliamone insieme ragazzi alla live potete partecipare anche con i vostri cellulari ricondizionati meglio se acquistati attraverso il sito www.regenstore.it meglio ancora approfittando della scontistica che non riguarda soltanto i cellulari i codici sono GLR e GLR tv sì vedo troppi intertristi in giro di nuovo di nuovo i funerali santo cielo non va bene così cominciamo a essere noi più positivi però un fatto c'è un fatto c'è dietro la Tula la Tula Turan più Lautaro che ha preso il posto della Lula Lukaku Lautaro c'è il vuoto c'è il deserto lo sapevamo già da quest'estate che c'era questo rischio che si sarebbe corso questo rischio però devo dire che al momento ok Arnautovic è infortunato e Sanchez non si vede solo l'Inter non beneficia di gol dagli attaccanti cosiddetti di complemento non so Cafforo un paio al Milan gli ha fatti Belotti anche lui alla Roma gli ha fatti Raspadori e Simeone al Napoli qualche gol l'hanno fatto e qui l'Inter è solo Tula è solo Tula tra l'altro con numeri da record io ve li vorrei dire 12 gol e 9 assist complessivamente fanno un totale di 21 ragazzi in Europa praticamente nei primi cinque campionati non c'è nessuno andiamo nel dettaglio Turan finora ha fatto due gol e eh sette assist Lautaro ha fatto dieci gol e due assist il totale fa ventuno devo dire che solo Guirassi e Firic dello Stoccarda in Bundesliga li hanno distribuiti in modo diverso quindici gol insieme e sei assist sono a ventuno persino al Manchester eh Kane scusate al Bayern al Bayern Monaco Kane e Sané sono a diciotto quattordici gol e quattro assist eh dietro la Tula ragazzi c'è il deserto questo è un grosso problema il contributo che fino a questo momento Arnautovic ha la scusa dell'infortunio per carità ma Sanchez non ha questa scusa è pari a zero e questo è un grosso problema perché su Lautaro che cosa vuoi dire al di là che ha fatto questa cosa incomprensibile col Bologna che ha rimesso in corsa il Bologna cioè Lautaro ha già fatto il record di quattro gol in ventisette minuti a Salerno ha fatto undici gol in dieci gare prima vi parlavo di campionato ma qua devo mettere anche la Champions pensate che l'anno scorso nello stesso periodo era tre nei tre anni precedenti era era a cinque gol al massimo addirittura questa volta è a undici sono tantissimi nel ventuno ventidue ne aveva fatti cinque in sei partite cioè i numeri di di Lautaro sono eccezionali eh al momento ha messo dietro Mbappé, Kane, Olam, Bellingham tutti mamma santissima dei gol in Europa sono dietro Lautaro solo Seru Ghirassi nato ad Arla città bellissima francese naturalizzato guineano che gioca tra l'altro Marco Antonio un metro ottantasette ottantatre chili che gioca nello Stoccarda in Bundesliga ha fatto già tredici gol chi lo conosceva questo però è partito ancora meglio di Lautaro sul singolo però insomma tra i grandi attaccanti Lautaro è assolutamente nella sua stagione migliore quindi eh il discorso della dipendenza da Lautaro l'ho sempre detto è un discorso che ci sta ma ma uno io io continuo a sperare di essere dipendente da Lautaro perché vuol dire che c'ho che c'ho sempre Lautaro che va a segno a Raffica perché devo dire che quest'anno al momento anche se è passato poco sta contenendo anche i cosiddetti momenti di digiuno una sola volta è partito in panchina è entrato ha fatto quattro gol a Salerno quindi mi sembra ovvio il tema ne parleremo anche in live al di là del fatto che l'Inter non mi piace che ancora una volta distingua tra le partite di cartello e le partite non di cartello quanto a impegno concentrazione sottovalutazione dell'avversario perché non mi piace perché ribadisco questo concetto l'Inter è seconda e ha dato cinque gol al Milan che è primo e quattro gol negli scontri di rete la Fiorentina che è terza cioè nove gol sono tantissimi cioè vuol dire che tu sei in grado di prendere a schiaffone il primo in classifica e la terza in classifica come quando vuoi poi d'accordo la Fiorentina aveva avuto se vi ricordate il il giovedì di Conference League con il Rapid Vienna però insomma questi sono numeri e però dietro Lautaro e dietro Turam ripeto perché comunque Turam ha già segnato in Champions ha segnato in campionato ha fatto comunque sette assist credo che anche questo sia un piccolo record in Europa non c'è assolutamente nessuno il vuoto bisogna lavorare su questo ecco io il suggerimento più che una critica che faccio a Simone Inzaghi è in attesa di Arnautovic che non ce l'hai perché non ce l'hai adesso tutto questo ottimismo che ci fa credere che lo riavremo prestissimo io continuo a tenere come veramente deadline per il rientro la sosta non questa ma quella di novembre sarebbe già bello riaverlo dopo la sosta di novembre però qui bisogna lavorare un pochino di più visto che Sanchez ragazzi non c'è non so come dire non porta non porta neanche un per il momento io mi auguro che le cose cambino un piccolo contributo di gol è talmente evidente ma lo sapevamo quest'estate però si pensava insomma che comunque non si poteva mettere in conto l'infortunio di Arnautovic che Lautaro e Turan per me poi che sono turamista avrebbero segnato la gran parte dei gol dell'Inter mi sembrava abbastanza scontato cioè non è che ce ne accorgiamo adesso però che il contributo degli altri fosse così insignificante sto parlando di Sanchez ripeto perché Arnautovic c'è un assist all'inizio del campionato e poi non c'è nient'altro e non va bene sì forse anche Sanchez forse ha fatto un'altra adesso non mi ricordo ma insomma il contributo di quella che è diventata visto l'infortunio di Arnautovic la terza punta di ruolo Sanchez deve essere più importante e quindi e quindi poi nel prossimo video con Niccolò Schira magari cerchiamo di capire che cosa si potrebbe fare sul mercato sugli svincolati si è deciso di non fare nulla perché nessuno è da Inter però è chiaro che se a gennaio adesso vediamo se rientra Arnautovic e non ha ricadute poi anche tanto è tutto il mese di gennaio per pensarci dove però sarai c'è un casino per l'Arabia ragazzi sede spostata da Jedda di nuovo a Riyadh dove sono stato l'anno scorso dell'Aurentis che tuona ma siamo deficienti ad andare là ragazzi là ci si va per i soldi io mi ricordo l'anno scorso quando ero in Arabia eravamo in giro con tutti quelli della Lega ed eravamo tutti lì a dire ma perché gli spagnoli prendono il triplo dei soldi che danno a noi hanno fatto la formula da Final Four dobbiamo farla anche noi veniamo qua con quattro squadre e tutto il calcio italiano prende più soldi sì però poi ti spostano le date ti dicono no noi abbiamo già abbastanza eventi a Jedda se vi va venite di nuovo a Riyadh ma decidiamo noi quando sei schiavo francamente di una cosa che finirà poi per creare un casino su Napoli Fiorentina qualcuno non vuole più andarci c'è inter e Lazio indicibile ma non andiamo troppo in là adesso a me interessa cercare di capire perché dietro la Tula c'è e che ha numeri straordinari c'è il deserto c'è il vuoto e soprattutto come Inzaghi può risolvere questo problema io continuo a dirlo Mkhitaryan e Klassen devono diventare in questo momento anche delle alternative lì davanti in attesa di Arnautovic di tutto questo ne parliamo in live alle ore 19 di aspetto numerosi so che troverò tanti intertristi lo so però ragazzi come sempre io sono ottimista perché se do cinque gol a chi è primo in classifica temporaneamente il Milan e quattro a chi è terzo non è possibile che per la partita scioccamente perché siamo dei fessi persa col Bologna sì d'accordo Pulisic la toccata con la mano ho capito ma guardiamo anche a noi ragazzi meno snob meno borghesi e giù il groppone ne parliamo in live ripeto alle 19 vi aspetto numerosi viva l'Inter ciao ciao